Ancora una tragedia sui luoghi di lavoro, questa volta a Castelfiorentino in provincia di Firenze dove un ragazzo albanese di 27 anni ma residente da tempo nel comune di Bibbiena è morto in un altro dramma sui luoghi di lavoro. Secondo una prima ricostruzione si trovava sul tetto di un capannone in via Niccoli per eseguire dei lavori di posa di catrame. La dinamica ancora non è chiara in un primo momento si pensava a una caduta da parte del giovane per evitare un incendio che si era sviluppato nel tetto. Secondo altre testimonianze invece la caduta è stata precedente alle fiamme. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri dell'isoccorso Pegaso ma per il ragazzo non c'è stato niente da fare. Nello stesso edificio nell'agosto 2011 era morto un altro operaio sempre di origini albanesi mentre eseguiva alcuni lavori di manutenzione. Grazie a tutti.